Buongiorno, buongiorno a tutti e buon giovedì, siamo a giovedì, manca un giorno alla fine della settimana, settimana molto intensa per me davvero, è passata praticamente la maggior parte del tempo tra ospedali per le medicazioni di Mattia, tra il medico di mia mamma, questioni burocratiche davvero, uno fa la procedura in un modo, uno lo fa in un altro, insomma ho perso praticamente 4 giorni della settimana per fare tutte queste cose, ma siamo arrivati a giovedì, siamo arrivati a giovedì, c'è una bellissima giornata in quel di Lecco, un sole molto caldo e sembra che forse, forse sia arrivata la primavera e siccome arriva la primavera io oggi vi vorrei parlare di 3 basi viso più degli optional che sulla mia pelle fanno miracoli, delle basi viso molto leggere e che ho messo sul podio, vediamo se riesco a raccontarvele, sapete che io vi parlo per l'esperienza e non per la conoscenza delle caratteristiche tecniche, ma queste basi al momento sono le mie preferite tra le tante che ho e quindi ho detto vabbè, magari qualcuno è in cerca di una base viso leggera, idratante, che dona un effetto naturale per una pelle over 50, io ho 54 anni per chi passasse di qui per la prima volta, una pelle mista grassa che però a onor del vero io curo in maniera molto meticolosa e mi sono accorta che ormai sono tre anni quasi che faccio la skin care completa con tutti gli step, mi sono accorta che c'è soprattutto un fondotinta che ho usato in passato e che avevo lasciato lì perché mi dava un effetto troppo grasso sulla pelle, troppo unto, troppo pesante, rimesso in uso in questi ultimi mesi devo dire che la situazione è notevolmente migliorata, quindi dobbiamo anche ricordarci di curare la nostra pelle del viso con una skin care buona, magari non con tutti i 10 step della skin care coreana ma comunque anche soltanto con degli step base perché a mio avviso se la pelle viene curata, viene sfogliata, viene idratata, viene nutrita, tutto quello che noi ci mettiamo sopra ha sicuramente un aspetto diverso perché proprio il fondo sotto è curato, ma partiamo dal primo posto che poi io definirei che sono quasi tutti al primo posto però il mio preferito in questo momento è una nuova entrata nella mia collezione diciamo make up di basi, questo l'ho comprato nell'ultimo ordine che ho fatto da Avon, cioè nell'ultimo, nel primo e ultimo poi ne ho un altro di make up che se siete interessati vi farò vedere perché così sono delle piccole scoperte carine. Allora questo ora ha cambiato pack e probabilmente io l'ho trovato abbastanza scontato proprio perché lo stavano togliendo per poi inserire in catalogo quello con il pack nuovo, è il Serum Foundation Radiant Finish SPF 30. Allora generalmente in estate io uso un SPF 50 ma anche durante l'anno però francamente questo con SPF 30 mi ha proprio incuriosito e vi dirò che l'effetto è meraviglioso. Allora il colore che ho preso io è il 228G Nude, è un siero fondotinta molto leggero con una media coprenza, sono quelli che preferisco perché la mia pelle comunque è una pelle AG e non mi piace avere l'effetto da bambolina, voglio un effetto bello, naturale ma anche se si vede qualche piccolo difetto per l'amor di Dio, siamo esseri umani e non siamo dei robot, non c'è l'intelligenza artificiale che crea la Eli in maniera perfetta, sarebbe troppo bello se poi diventasse vera questa cosa ma l'intelligenza artificiale non mi piace per niente in nessun campo. A parte questo escursus che va fuori tema, vi dicevo l'effetto che mi lascia sulla pelle è bellissimo, è un effetto opaco, non troppo radioso anche se qua dice che è il finish radioso, sulla mia pelle ha un effetto leggermente opaco, mi sembra anche che ci sia una minor produzione di sebo all'interno di tutta la giornata, come vi ho sempre detto io mi trucco alle 6 e mezza, 7 della mattina e generalmente mi strucco verso le 9 e mezza, 10. È vero che nella seconda parte del pomeriggio, chiaramente se riesco devo ritoccare o con una passata di salviettina assorbente di carta per togliere l'unto, poi magari ci metto una cipria leggerissima sopra, però comunque tiene e tiene tutta la giornata. Questo è un siero fondotinta a copertura modulabile, leggera media, direi più media che leggera perché a me copre veramente bene e io ne metto veramente pochissimo, ne basta pochissimo. Ora vi faccio vedere il colore, che vi sembrerà scuro ma sulla mia pelle è perfetto e poi alla fine del video vi svelerò comunque i miei trucchetti, che va bene, è la scoperta dell'acqua calda, che uso per mantenere e opacizzare meglio la base viso. Questo mi piace davvero tantissimo e lo metto proprio sul podio perché lo trovo il più leggero di tutti. Non lo sentite sulla pelle, una volta spalmato ha proprio una sensazione molto polverosa, molto liscia. Vedete, questo è l'effetto che io ho sulla pelle del viso, è quello che ho messo stamattina e ne faccio proprio pochissimo, ne metto veramente poco perché se si abbonda poi si ha l'effetto bambolina che a me non piace. La coprenza che io cerco è una coprenza media. Ottimo prodotto che vi consiglio se volete una pelle dall'effetto leggermente mattificato, comunque luminoso e con una copertura leggera che vi permette magari di cancellare così le vostre imperfezioni. Passiamo ora al secondo prodotto. Il secondo prodotto è lui, Infallible 32 ore di L'Oreal. Anche questo mi piace davvero. tantissimo. Il colore che ho io è il 100 linen. Ah, aspettate. Ci togliamo con l'acqua micellare dalla mano quello che abbiamo messo così possiamo provare il secondo colore. Allora, sono tutti e tre dei colori leggermente diversi che poi io vi dirò come cerco di far tornare tutti alla stessa maniera. Allora, anche questo ha una densità molto molto liquida. Ne metto addirittura meno di un pump perché secondo me sulla mia pelle è troppo. E poi mi rendo conto che, come vi dicevo prima, se ho fatto una perfetta skin care, si spalma piacevolissimamente, ne basta veramente veramente pochissimo ed è l'effetto che voglio io. Ora vi faccio vedere. Qua dice che ha una tenuta di 24 ore. come copertura dice medio alta ed effettivamente è leggermente più coperente di quello prima. Vedete? Qui è anche leggermente più chiaro ma sulla mia pelle poi si ossida leggermente e ho alcuni rossori che comunque bilanciano il colore del fondo tinta. Però vedete che se già spalmato meglio l'effetto è bellissimo. Il look che lascia è un look naturale, fresco, un leggero anche qui un leggero effetto mattificante. È un fondo tinta che uniforma la pelle, nasconde le imperfezioni e io lo trovo veramente meraviglioso. Io ho pensato a un podio ma vi dirò che ok metto al primo posto Avon, al secondo posto L'Oreal ma sarebbero tutti da primo posto sul podio. Mi piacciono davvero tantissimo e soprattutto sono leggeri e non mi appesantiscono il trucco per le tantissime ore in cui io lo tengo durante tutta la giornata. E questo è il secondo. Li trovate a parte Avon che chiaramente trovate da Avon sul sito o attraverso le vostre consulenti e come consulente vi consiglio la mia amica Simona di Beauty Passion. Infatti ho lì pronto pronto un ordine che deve partire per lei ma devo aspettare perché a parte la simpatia ma Simo è bravissima conosce da tanti anni i prodotti Avon e sicuramente vi può dare una piccola informazione qualche consiglio e anche molto onesta quindi se ci sono delle cose che magari lei non ritiene magari adatte a voi, alla vostra pelle io mi fido della Simo e quindi la prossima volta partirà un ordine proprio grazie a lei. Il terzo fondotinta che ho ripescato dal mio cassetto perché l'avevo lasciato lì perché non mi piaceva l'effetto che mi aveva dato l'anno scorso o due anni fa è di Bourjois. Healthy Mix fondotinta anti fatica. Questa siccome è passato un po' di tempo è la vecchia versione. Adesso hanno fatto una versione identica sempre con vitamina C, vitamina E e vitamina B5 ma con una tenuta 24 ore. Ma vi dirò che vabbè 24 ore io il fondotinta non lo tengo, questo per me va benissimo. L'avevo lasciato lì perché secondo me era troppo troppo unto. Anche qua meno di un pump lo sapete. Questo è leggermente più scuro degli altri due ma l'effetto che lascia è comunque bellissimo. Questo dei tre lo trovo il più idratante. Vi lascia sulla pelle un effetto luminoso, radioso. Non è effetto mattificante come gli altri due ma è davvero piacevolissimo. Poi soprattutto per me che sono in quella situazione antipatica della menopausa dove magari mentre state parlando con un cliente o siete in ufficio e state facendo qualche lavoro e avete fretto 5 minuti prima vi parte una scalmana pazzesca, cominciate a gocciolare. È davvero antipatico e fastidioso. Io lo ripeto sempre ma perché è una cosa che sto vivendo malissimo. Oltre al fatto che invece in menopausa mi è passato il mal di testa e questa cosa mi piace tantissimo. Però io ho veramente di quelle scalmane che sono molto 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 potenti e sono fastidiose perché non ci si sente bene in quel momento lì ma sono anche antipatiche perché se tu stai parlando con una persona o sei in un negozio ad un certo punto cioè diventi veramente non so io come uno che ha mangiato 4 kg di peperoncino e o esci o cominci a spogliarti e vedi le commesse che ti guardano come per dire mamma mia poverina. Alcune dicono ti capisco, altre dicono ma questa cosa gli succede? E questi tre fondotinta non mi si sciolgono sulla faccia. Ecco molto molto brutalmente diciamo così. Anche questo come vedete una volta che si è asciugato l'effetto è veramente molto naturale. non è da mascherone, non è da cera, il cerone da carnevale ma ha quell'effetto molto naturale che mi piace tantissimo. Bene, di questo il colore che ho io è il beige 54 che è leggermente più scuro del mio tono di pelle però ci sta bene lo stesso. Cancella anche qui, cancella per modo di dire, nasconde i rossori della cuperose io ne ho qualcuno. Di pori troppo grossi io non ne ho però avendo una pelle mista grassa comunque quando passano le ore diciamo il make up non rimane più perfetto come prima. E allora cosa faccio? Proprio un trucco dell'acqua calda. Per i colori un po' più scuri, tipo questo, io ci passo con la mia cipria più meno molto molto leggero che è quasi invisibile ma questa cipria che avevo comprato su consiglio di Paola Gattaluna che seguo e da tantissimo e mi piacciono tantissimo i suoi consigli era di Cosmify e si chiama Snico. Lei l'aveva consigliata come cipria fissante io la uso sia per fissare la base, cioè prima di mettere tutte le polveri o comunque di mettere il blush o di mettere la terra anche in stick fisso e opacizzo con questa ed è perfetto. Se invece il fondotinta è leggermente più chiaro, soprattutto magari d'inverno, questo lo faccio con questo che è il più chiaro di tutti, ci metto, cioè faccio lo stesso tipo di ragionamento lo stesso tipo di lavoro, come vedete le mie cipre sono completamente scassate le sto finendo ma non ne apro altre perché voglio veramente finire queste due perché poi ne ho altre da provare. Questa è di Essence, fantastica, fa il suo lavoro, costa una cretinata e vi devo dire che l'effetto opacizzante e fissante è lo stesso. Queste due mi aiutano a tenere il make-up più ordinato e mattificato possibile. Poi, ultimo trucchetto che volevo condividere con voi ma che sicuramente conoscete già io ho comprato questo siero di L'Oreal, True Match Nude Pampling Tinted Sierum. Allora, perché lo uso poco? Ve lo dico molto chiaramente perché è una pompetta che non funziona. Io sono sfortunatissima con queste pompette, non riesce più a pescare quindi la tiro fuori e poi con la mano, proprio molto brutalmente, me la metto. Vedete però che è abbastanza chiaro ed è anche molto molto leggero. Questo lo uso quasi solo d'estate. Ma con questo siero vado ad integrare magari il fondotinta che è leggermente scuro come tonalità, generalmente questo. E quindi mettendo un autogocce di questo e metà pump quasi di questo mischio e mi esce il colore che voglio io. E questi sono i miei piccoli trucchetti. Dunque, tutti questi prodotti, tranne ovviamente Avon, che trovate sul sito o nel catalogo e dalla vostra consulente di fiducia, li trovate tranquillamente da Tivotat oppure su Notino. Diciamo che i fondotinta o le BB cream, preferisco acquistarle in un negozio fisico proprio per il colore. Una volta che ho capito che il colore che ho scelto in negozio è quello che voglio, lo posso anche comprare online. Però generalmente poi usufruisco sempre degli sconti da Tivotat, visto che accumulo i punti, oppure da Acqua e Sapone, perché ho visto che ci sono, o penso in qualsiasi altro negozio di normale distribuzione di make-up. Cioè, questi sono proprio marchi, brand, che vendono quasi tutti. Ecco, io allora ve li consiglio tutti. Magari voi provate a passare nei negozi a provare la tinta, a vedere anche com'è sulla vostra pelle. Questi per me, che ho una pelle mista grassa, e che comunque ho una pelle over 50, sono per me perfetti. Effetto naturale, effetto leggermente mattificato, soprattutto per i primi due. Questo dell'Infallible e questo di Avon, Serum Foundation. Mi trovo benissimo, non mi danno problemi di brufoletti, sottopelle, di chicchi di miglio, quindi per me sono ottimi. Ma vi ricordo sempre che per avere un effetto veramente strepitoso di tutte le basi e poi di tutto il vostro make-up, vi dovete regalare una skin care bella. Una volta alla sera, quando si ha tempo, poi si fa la nostra maschera, possiamo fare le sfogliazioni una o due volte alla settimana in base alla vostra pelle, nutritela con le creme giuste, idratatela, tanto io ho una pelle mista grassa, ma l'ha idrato tantissimo, tantissimo. E vi devo dire che quando anni fa ho fatto il test della pelle, risultava più giovane di tanti, tanti anni. Mi confronto poi anche con magari amiche e colleghe che hanno la mia stessa età e mi rendo conto che effettivamente io di rughe non ne ho. Sarà anche perché sono abbastanza rotondetta, ma secondo me è anche perché c'è comunque una skin care buona alla base che possiamo fare tutti. Non dico i dieci step, ma i nostri cinque step li possiamo fare. Anche perché ci regaliamo un momento di coccola, un momento di piacere solo nostro, ci mettiamo magari una musica rilassante, ci facciamo una maschera, ci sdraiamo un attimo sul letto, sul divano. Penso sia giusto regalarsi dei momenti proprio di relax e di coccola così. Bene, ho già parlato anche fin troppo, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento ad un prossimo video. Buon fine settimana, se non ci sentiamo nel fine settimana, altrimenti sarete fortunatissimi e vedrete ancora la mia bella faccia qui con voi. Grazie e a presto. Ciao!